ben trovata ciurma degli scalmanati vi sentite brutti peggio del kraken o di qualsiasi altro mosto marino avete voglia di dare una svolta alla vostra identità bene è ora di voltare pagina e dare un po di bellezza al vostro personaggio la soluzione a tutti i vostri problemi è all'emporio del pirata nella sezione pirata qui potrete acquistare la pozione aspetto del pirata per soli 149 monete antiche circa 2 euro e 0 9 inoltre se la voglia di cambiare personaggio viene durante il game ricordate che l'emporio è accessibile in ogni avamposto precisamente nella struttura della bella signora delle anime al piano superiore la modalità di acquisto è la stessa della precedente una volta cliccato sul commerciante questo vi riporterà alla scheda dell'emporio come nella schermata principale vi ricordo che acquistando questa pozione cambierete solo ed esclusivamente l'aspetto del personaggio tutti i vostri dati rimarranno in memoria e non perderete assolutamente niente una volta acquistata per applicarla vi basta riavviare il giorno e dopo il video introduttivo prima della schermata principale vi verrà proposto di usare la pozione chiaramente l'avete comprata per un motivo quindi se siete d'accordo premete sul tasto sì i personaggi sono tantissimi e potrebbero volerci delle ore per sceglierne uno per migliorare la scelta ti consigliamo di selezionare alcuni personaggi preferiti e far variare tutto il resto scegliete con calma il vostro personaggio questo dovrà rappresentarvi al meglio e soprattutto deve essere ricordato dagli altri pirati ora non vi resta che diventare il più bello o la più bella di tutti i mari di si optis come sempre vi ringraziamo per averci visto e soprattutto non dimenticate di seguirci sui social siate scalmanati con gli altri e non con la vostra ciurma grazie a tutti